Grazie a tutti i dirigenti del Teatro di Ferrara che mi hanno offerto l'occasione per il prossimo 27 gennaio di celebrare insieme la giornata della memoria. La quale giornata della memoria può avere tanti significati. Può essere un'occasione rituale che impallidisce anno dopo anno a mano a mano che i fatti ricordati si allontanano che i testimoni diretti degli eventi scompaiono. Oppure può essere una partecipazione anche commossa, nobile, ma nobilmente inutile perché si limita a rivocare dei fatti atroci che spesso sono irriferibili. Oppure può essere un'occasione di conoscenza e questo è forse il suo significato più alto. Conoscenza vuole dire ripercorrere insieme nella brevità di una conversazione teatrale non soltanto i fatti ma le cause, i motivi che li determinarono. Insieme a quei motivi rievocare anche e per così dire ipotizzare le cause per le quali oggi in un mondo globalizzato, quei fatti potrebbero, non dico riprodursi, perché la realtà storica è irriproducibile, ogni epoca conosce la sua, ma avvicinarsi. Tanto più in un mondo nel quale la realtà virtuale e quella effettiva tendono spesso a confondersi con dei risultati di cui le cronave ci danno spesso raccapriccianti esempi. Ecco, allora se questo tentativo di conoscenza sarà non dico raggiunto ma anche soltanto sfiorato, quella giornata potrà essere un'occasione di una qualche piccola utilità per la memoria di quanti li avranno partecipato. Questo almeno è il mio augurio. Insieme, ripeto, ai ringraziamenti. Grazie a tutti.